La discarica di rifiuti speciali non pericolosi prevista sul sito dell'ex Cava Latino per l'amministrazione comunale di Sciacca non si farà. Il sindaco Francesca Valenti annuncia il proprio no ed invita associazioni, comitati, cittadini e gruppi politici a presentare, qualora lo volessero, le proprie opposizioni iscritte. Occorre tutelare in ogni modo i pozzi idrici e le falde acquifere di Contrada Carboi. Si vuole insomma intervenire per tempo per evitare forse le stesse incertezze che hanno accompagnato la vicenda del biodigestore in zona piana Scunchipani. Mi opporrò in tutti i modi, anzi non solo mi opporrò ma lì c'è un problema che non è solo la discarica in sé, ma è un problema perché noi stiamo parlando di una zona dove sono i pozzi Carboi, quindi di un bacino imbrifero fondamentale per l'intero ambito. Ho già di questo avvertito, allertato l'ATI, proprio perché anche l'ATI prende posizione su questa realizzazione che non può essere consentita. In ogni caso non ha la regolarità urbanistica e sarebbe necessaria una variante urbanistica e questa variante urbanistica necessita di un atto di assenso del sindaco, cosa che evidentemente io non darò mai. Quindi faremo quanto necessario, anzi io approfitto perché in questo momento si possono presentare osservazioni. Ora è opportuno secondo me che le associazioni, che i comitati, che i cittadini che già esprimono il loro dissenso lo facciano per iscritto, manifestando per iscritto il loro dissenso perché questo può dare forza al tavolo che poi verrà convocato.